Buonasera consiglieri, buonasera a tutti, benvenuti, è molto bello rivedere il pubblico dopo tanto tempo. Lasciamo la parola a dottoressa Farinelli che è il segretario comunale questa sera per fare l'appello. Prego consiglieri fate silenzio, prego dottoressa. No, no, fanno loro. Sara accendi il microfono dottoressa. Renata Tosi, Davide Rosati, Ennio Claudio Frisotti, Massimo Angelini, Alfonso Pellegrino, Sara Maiolino, Monica Mussoni, Gabriele Galassi, Fabrizio Pullè, Marzia Boschetti, Naide Vandi, Andrea Bedina, Marco Rani, Daniele Martini, Sabrina Vescovi, assente giustificata, Simone Imola, Simone Gobbi, Cristian Andruccioli, Marina Gambetti, Leonora Ruggeri, Carlo Conti, Andrea Delbianco, assente giustificato, Fabio Ubaldi, Paolo Tonti. Perfetto. Possiamo iniziare il nostro consiglio comunale, l'ultimo di questa legislatura. Togliamo la trattazione. Ecco, così. Abbiamo, non avendo comunicazioni istituzionali, passiamo direttamente alle domande d'attualità. La prima domanda d'attualità presentata è del consigliere Imola Simone. Prego, consigliere, tre minuti. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. In relazione al PNRR, in particolare alla missione 5, ovvero sport e inclusione sociale, era possibile, nel secondo avviso, ovvero il cluster 3, destinato a tutti i comuni italiani, presentare progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la rigenerazione degli esistenti, purché di interesse delle federazioni sportive nazionali. Ogni federazione, a livello nazionale, poteva manifestare l'interesse per un solo progetto. All'interno delle aree polivalenti era sufficiente l'interesse di una sola federazione sportiva. Considerato il fatto che a Riccione alcuni impianti e alcune società di valenza nazionale ci sono, vorrei sapere quali progetti sono stati presentati e quali invece si è scelto di non presentare, chiaramente tra le realtà che oggettivamente potevano avere un interesse di valenza nazionale. Grazie. Grazie. Consigliere risponde il sindaco. Prego, signor sindaco, tre minuti. Grazie. 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 Allora, con piacere rispondo a questa sua question time, anche se lei non è stata precisa nell'indicazione della manifestazione di interesse, perché non trattasi ancora di bando. Il cluster 3, che è l'unico al quale poteva partecipare il comune di Riccione, perché è comune, non capoluogo e sotto ai 50.000 abitanti, può presentare un solo progetto e il progetto può essere presentato solo ed esclusivamente quando vi è, diciamo, la condivisione mediante affiliazione via PEC di una federazione sportiva. Quindi, come sa, le federazioni sportive italiane sono 40 e quindi nell'ambito del cluster 3 potevano essere presentati solo 40 progetti. Il comune di Riccione è fortunato, perché ha trovato la condivisione nella presentazione di una progettualità con la federazione italiana nuoto. E quindi abbiamo presentato la manifestazione di interesse. Grazie, sindaco. Consigliere? Due minuti per la replica. No, no, preciso che ho parlato anche io nella mia question time di manifestazione di interesse e non di bando. Comunque volevo sapere se per caso c'erano, oltre quello che lei ha riportato, altre manifestazioni di interesse che si potevano presentare o presentate. Grazie. Grazie, consigliere. La prossima domanda d'attualità è del consigliere Andruccio Di Cristian. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Per un attimo che le danno la parola, consigliere, se stasera siamo un po' in difficoltà. Ecco, prego. Grazie, presidente. Buonasera a tutti. Io volevo chiedere l'UMI al sindaco rispetto a una lettera pubblicata dalla federazione italiana Suoco Squash, che è stata pubblicata da loro, indirizzata a lei e a tutti i cittadini di Riccione, in cui sostanzialmente lamentano una mancata collaborazione da parte dell'amministrazione in riferimento al prolungamento della concessione sul terreno dove sorge l'impianto sportivo del Gioco Squash, anche con riferimento a futuri loro investimenti che vogliono portare in Ariccione. Ricordo che qua ha sede la federazione italiana Gioco Squash, che credo sia una ricchezza per tutto il territorio e che vede anche diversi cittadini impegnati in questo sport. Tra l'altro è un luogo anche dove si dà lavoro anche ad alcune persone che lavorano in quelle strutture. Lamentano anche il fatto della mancata partecipazione al bando, alla manifestazione di interesse per il contributo previsto dal governo. Io però le voglio chiedere perché la mancata collaborazione, ma anche dal punto di vista dialogico, con la federazione Squash, se è vero quello che dicono o se invece no. Grazie. Grazie, consigliere. Sindaco? Quest'ultima parte, consigliere Andrucci, lui mi piace di più. Perché la federazione italiana Squash ha visto sempre la porta aperta, non solo di tutta l'amministrazione, ma in modo particolare la porta del sindaco, come deve essere, come è corretto che sia, oltre che dell'assessore allo sport. Anche perché abbiamo il privilegio, non solo di avere la federazione Riccione, ma di avere dei giocatori che attualmente sono in sede federale, in sede nazionale, e stanno svolgendo proprio in questi giorni delle gare dove rappresentano e portano la maglia dell'Italia. Quindi è anche un onore a livello, diciamo, sportivo. Quindi è sempre stato assolutamente, siamo sempre stati disponibili ad accoglierli e a parlare con loro. Vorrei ricordare però un attimo come stanno le questioni. Il centro federale sorge su una proprietà pubblica che venne concessa in diritto di superficie per la costruzione di un centro federale per il quale il Comune di Riccione ha rilasciato una fiduzione di un milione e mezzo. Perché è il Comune di Riccione che garantisce il pagamento del mutuo della federazione. La concessione scade nel 2029, quindi si potrà parlare di proroga nelle immediate vicinanze della scadenza. Non è possibile prorogare prima. Quindi se loro, come abbiamo spiegato loro, hanno intenzione di fare delle opere di manutenzione straordinaria, ben venga, eventualmente troveremo delle modalità diverse dalla proroga, perché la proroga se ne potrà parlare nel 2029, in quanto non c'è nessun diritto che scade attualmente. Questa lettera è stata come un fulmine a Censereno, è stata una provocazione, anche perché lei ha visto è indirizzata alla stampa più che all'amministrazione, quindi l'abbiamo presa per quello che è, quindi diciamo una sorta veramente di provocazione, anche perché probabilmente loro non hanno trovato un comune che aderisse alla loro possibilità di presentare un progetto nel PNRR, perché vorrei ridirlo nuovamente. Un comune può presentare un solo progetto, uno solo per ogni comune, e per essere ammesso il progetto del comune deve essere affiliato da una sola federazione. Quindi è per quello che dicevo che in Italia saranno al massimo 40. Noi abbiamo avuto la fortuna, non solo di avere il centro federale dello squash a Riccione, e quindi avremmo potuto con loro condividere, ma abbiamo avuto anche altre due manifestazioni di interesse nei nostri confronti. Uno da parte della Vela, sul progetto della Reggiana, perché qui lo dico in maniera acclarata, nonostante non lo abbiamo ancora manifestato, ma la Vela metterà il centro federale alla Reggiana, e ha già deliberato ciò il 5 di marzo. Quindi l'ultimo centro federale della Vela sarà a Riccione, l'unico nell'Adriatico. Quindi avevamo l'opportunità di chiudere con loro la possibilità di partecipare al PNRR, in più aveva manifestato intenzione di partecipare con noi al PNRR, anche la federazione sport rotellistici, con il progetto dello skate park. Il problema è che occorreva scegliere, in ragione del fatto che il massimo del contributo che si può chiedere nei cluster 3 è 4 milioni di euro, e quindi noi abbiamo ritenuto che il nostro impianto notatorio meritasse assieme alla Federazione Italiana Nuoto un investimento di siffatta natura. E così abbiamo proseguito il percorso per la manifestazione di interesse presentata il 22 aprile, e guardo il dottor Spataro perché ci ha appunto aiutato nella presentazione di questa manifestazione di interesse proprio con la Federazione Nuoto. In più aggiungo giusto per, in ogni caso non abbiamo lasciato neanche lo skate park senza un finanziamento, perché si è aperta una finestra di finanziabilità di opere sportive regionale, e abbiamo presentato la skate park a questo, diciamo, filone di finanziamento, anche se il finanziamento è massimo 300 mila euro, mentre lo skate park Cuba 450-480. Quindi nessuna delle opportunità di finanziamento esterno al Comune di Riccione viene abbandonata. Anzi, io torno con un po' di fiatone ora da Roma, che sono stata al Ministero della Transizione Ecologica, proprio per presentare al sottosegretario Vania Agava la opportunità di partecipare al prossimo bando di finanziabilità della comunità energetica con il progetto di Boeri. Quindi l'amministrazione è attenta, l'amministrazione non fa sfuggire nessuna occasione per portare giustamente a casa soldi per la comunità riccionese. Grazie. Grazie, Sindaco. Consigliere Andruccioli, prego, due minuti per la replica. Io, al di là dell'elenco del Sindaco, penso che se una federazione nazionale fa una lettera del genere, qualche problema c'è stato, perché non penso che una federazione che ha ruolo anche istituzionale arrivi a fare una lettera del genere se non ci sono delle motivazioni alla base che portano, diciamo, a criticare l'atteggiamento di un'amministrazione. Al di là del bando, c'è un problema di mancato interesse verso, penso, questa struttura e il suo futuro, perché se loro devono anche progettare degli investimenti per il futuro, investimenti che chiaramente non si ammortizzano nel giro di cinque anni, ma si ammortizzano con molti più lunghi, è chiaro che chiedano delle certezze sul futuro della loro vita, del loro impianto in questa città. Quindi l'atteggiamento, come dire, almeno qua dicono di non ricevere, lei dice che le porte sono sempre aperte, loro qua parlano quasi di scocciatura di quello che hanno provato. Io penso che invece riveli, diciamo, un atteggiamento diverso che questa amministrazione ha avuto, almeno nei loro confronti. Dopodiché prendiamo atto degli investimenti che fate, cioè che fate, che andremo a richiedere per l'impianto annotatorio noi e anni che chiediamo che questa amministrazione ponga attenzione sugli investimenti, sugli impianti sportivi. Adesso c'è il PNRR, ma avremmo avuto bisogno di ben altra attenzione da parte vostra sull'impiantistica sportiva di questa città, che ahimè ha potuto dare il proprio contributo all'economia turistica di questa città, allo sport di questa città, ma che è stata molto trascurata dal punto di vista della manutenzione e degli interventi. Grazie. Grazie, consigliere Andruzzoli. Consigliere Gobbi, Simone, prego, la sua question time. Grazie, presidente. Sì, volevo chiedere solamente una delucidazione in base alla vostra determina del 15 marzo relativamente alla rassegna la rizionese, quelli degli incontri con autori. Ho visto che nei cascie c'è molta disparità tra ad esempio il resto degli intervenuti tipo il giornalista Porro che prende circa centinaia di euro rispetto a Davene che invece ho visto un compenso di 12.000 euro. a me tra l'altro Davene piace. Però volevo chiedere il motivo di perché di questa disparità di trattamento di cascie. Ma cos'è che c'è da ridere, sindaco, scusi. Non capisco che cosa c'è da ridere. Consigliere Gobbi, prosegue all'interno la sua question time cortesia. E poi se il ministro Garavaglia aveva anche lui avuto un cascie. Chiedo questo, grazie. Non ho capito cosa ha chiesto alla fine, consigliere. No, Garavaglia. Per Garavaglia c'è da ridere. Perfetto. Prego, risponde l'assessore Caldari. Grazie consigliere Gobbi. Anche a noi piacerebbe poter spendere quello che vorremmo quando invitiamo gli ospiti o gli artisti o comunque persone che fanno conferenze. Ma non so se si è informato, Alessandro Davene non era convocato per un colloquio, per una conversazione, ma per uno spettacolo. Perché la sua era una lettura teatrale di quello che poi ha raccontato. Mi auguro che lei ha partecipato e abbia comunque molto apprezzato. Quindi, insomma, la logica è quella di una richiesta sacrosanta da parte di un personaggio che abbiamo voluto a Riccione che chiaramente si è anche prestato con grande piacere in una bellissima serata, peraltro. E quanto al Ministro, invece, non ha avuto alcun compenso e quindi non c'è nessuna determina che in qualche modo giustifica importi e dispese per il Ministro. Grazie. Grazie, Assessore Caldari. Consigliere Gobbi, vuole replicare? Grazie per le delucidazioni che mi sono state date. Io ho apprezzato lo spettacolo di Davene. Ho chiesto appunto il motivo di perché c'era questa disparità di trattamento. Grazie. Grazie, Consigliere Gobbi. Non essendoci altre question time, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. permesso di costruire convenzionato in deroga realizzazione di un intervento di nuova costruzione e previa demolizione di un fabbricato in Riccione corso Fratelli Cervi 235-237 proponente del Sindaco Tosi. Renata, prego, signor Sindaco. Sì, è con grande piacere che propongo al voto del Consiglio Comunale questa delibera con la quale andremmo a riconoscere un permesso di costruire in deroga per lo sviluppo di quella che è l'area retrostante alla nostra chiesina di zona Borgo Paese. La chiesina è un patrimonio molto importante per tutti noi. Ricordo quella che è stata la raccolta dei fondi per la riqualificazione del Campanile. Quindi è un pezzo della nostra storia e quindi abbiamo avuto con grande piacere la possibilità di interloquire con la parrocchia e quindi di determinare con loro quello che è lo sviluppo dell'area retrostante che ormai da troppi anni è rimasta ferma. Lo sviluppo consiste nella realizzazione di una piccola palazzina ad appartamenti e questa viene ad essere riconosciuta a favore della parrocchia dietro l'interesse pubblico che è stato riscontrato nella possibilità a titolo di prelazione di avere due appartamenti a prezzo calmierato più precisamento a ecocannone che possiamo rendere disponibile nell'ambito dei servizi alla persona per quelle che sono le emergenze abitative nell'ambito della comunità riccionese e il comodato di un locale per la durata di cinque anni che può essere messo a disposizione dell'amministrazione ma anche più precisamente di quello che è il comitato della zona paese nell'ambito dello sviluppo appunto della nuova rigenerazione del cortile interno della chiesina di Borgo Paese verrà anche realizzata una piazzetta con un piccolo anfiteatro e anche un porticato che condurrà più facilmente quella che è la passeggiata tra il corso Fratelli Cervi e Viale Nullo infatti è ormai annosa la questione del diciamo sfondamento ciclo pedonale e anche carrabile di Viale Nullo in questo modo possiamo andarlo a realizzare anche per raggiungere quelli che saranno i posti auto che verranno ad essere realizzati dall'intervento edilizio di cui appunto ho con veramente grande onoro presentato il permesso di costruire in deroga grazie grazie signor sindaco prima di lasciare la parola ai consiglieri comunali vorrei dare una piccola informazione abbiamo qualche difficoltà con lo streaming questa sera consiglieri purtroppo le cose tecnologiche a volte non ci supportano però comunque è registrata e verrà messa e verrà messa su canali del Comune di Riccione appena finito il Consiglio Comunale questo ve lo posso garantire come avete visto abbiamo anche qualche difficoltà con l'impianto questa sera ma chiaramente si presentano sempre quando servono queste difficoltà prego consiglieri chi vuole intervenire può intervenire consigliere Angelini è l'intervento principale consigliere sì presidente è l'intervento principale grazie della parola buonasera a tutti Ezzalon così era sopronominato lo storico parroco spulcro del paese attore sia di questa antica chiesa che è artefice della costruzione della nuova Iviale Diaz il compianto Don Alfredo Montebelli era descritto di indole forse scorbutica maldecisa era un tipo pragmatico uno che non le mandava a dire amava la concretezza andava al sodo un parroco che già all'epoca parliamo cavallo della seconda guerra mondiale puntava sui giovani nel suo oratorio sono cresciuti tanti ricionesi doc lì nacque la Virtus Calcio ora tra i villaggi e per concedere sempre maggior spazio ludico alla gioventù ebbe già la visione di allargarsi sua fu la volontà di acquisire l'attuale area in via Arezzo con relativo campo di calcio attuale sede della ricione calcio femminile ecco credo che questa piccola goccia di storia sia stata doverosa per quanto per quanto riguarda la pratica che ci aggiungiamo ad approvare questa sera il sindaco è stato molto esaustivo dal punto di vista tecnico mi permetto qualche un corollario parliamo di un intervento privato un fabbricato arretrato ad appartamenti della parrocchia con forti ricadute e valorizzazione e miglioramento dell'ambiente miglioramento urbanistico per la rigenerazione di un luogo in degrado miglioramento civico per la messa a disposizione di un luogo pubblico identitario la piassetta assieme alle altre piassette diffuse Matteotti Parri Righetti abbiamo un miglioramento sociale per la messa a disposizione di alcune unità a canone calmerato miglioramento civile sia per il locale pubblico che per vitalizzare la nuova piassetta avremo degli standard di nuovi parcheggi pubblici e per il percorso ciclo pedonale con la retrostante viale nullo abbiamo un miglioramento storico per l'opportunità di valorizzare un tesoro nascosto dalla nostra città nella tradizione il domani questo nostro centro storico il paese è vitale grazie ad un numero crescente di attività sia artigianali che commerciali attività che sono vive e pulsano perché curate e gestite con amore e spirito di sacrificio per questi motivi preferiamo chiamarle volontà più che attività ora questo intervento urbanistico in stretta sinergia con il futuro progetto relativo a piazza unità d'Italia ricco di verde di zone d'acqua progetto che vi invitiamo a visionare e condividere presso l'urban center in corso fratelli cervi progetti a disposizione di tutti i cittadini di ciò questo progetto apporterà sempre più un maggior impulso al nostro borgo antico completando quel percorso portato avanti con tenacia e passione in questi anni da questa maggioranza percorso che in termini tecnici viene detto riqualificazione mentre a noi piace meglio chiamare umanizzazione per una riccione sempre più su misura per i nostri cittadini per i nostri operatori per i nostri ospiti riccione first ora ed in futuro sempre grazie per l'attenzione grazie consigliere Angelini ci sono altri interventi consigliere su questa pratica scusate non essendoci altri interventi sindaco vuole replicare passiamo alle dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto per questa pratica non essendoci dichiarazioni di voto pongo in votazione la pratica prego consiglieri potete votare con 18 voti favorevoli nessun contrario nessun astenuto il consiglio comunale approva all'unanimità ora consiglieri richiede l'immediata esegubilità quindi consigliere di nuovo potete votare consigliere Imola riprovi perché evidentemente abbiamo scusi a me mi rimane su con 18 voti favorevoli nessuno contrario nessuno astenuto come prima all'unanimità il consiglio comunale dichiara immediatamente eseguibile ora passiamo alla prossima pratica all'ordine del giorno costituzione dell'associazione Riccione incontra musica approvazione atto costitutivo statuto e convenzione proponente l'assessore Luigi Santi prego assessore buonasera a tutti questa sera portiamo in approvazione la costituzione di una nuova associazione Riccione incontra musica costituita dall'amministrazione comunale di Riccione dall'istituto musicale Gaspari Tirincanti è un'associazione senza scopo di lucro che ha come riferimento la promozione e la valorizzazione dei rapporti tra la musica e le arti musicali e come compiti l'organizzazione del premio Riccione per la musica la partecipazione e la produzione di eventi musicali la gestione di auditorium e di altri progetti sempre riguardanti il settore e il mondo musicale i soci fondatori dicevo sono comune associazione poi potranno eventualmente anche entrare persone fisiche o persone giuridiche così è stato disposto nello statuto il comune assicura attraverso un'apposita convenzione un contributo annuo la convenzione durerà tre anni più rinnovabili di altri tre anni e l'associazione sarà dotata naturalmente di un CDA di un direttore e eventualmente di un direttore artistico la sede sarà in via Fucini dove attualmente è sito l'istituto musicale già però nell'ottica di guardare avanti di guardare al nuovo istituto musicale quindi al nuovo investimento che verrà fatto nella zona dell'ex matatoio dove come sapete il comune di Riccione ha ricevuto riceverà 5 milioni di euro che è il massimo consentito per un comune sotto i 50.000 abitanti come il nostro per un progetto sociale e dedicato anche alla musica quindi questi 5 milioni di euro verranno utilizzati per costruire questa nuova struttura che accoglierà l'auditorium accoglierà la nuova sede dell'istituto musicale laboratori e piccole residenze per ragazzi diversamente abili in un contesto in cui la musica e i laboratori conviveranno insieme è un contesto molto importante per cui siamo riusciti ad ottenere il massimo delle risorse disponibili per un bando del PNR di quella tipologia quindi stiamo ragionando anche nell'ottica di accelerare i lavori anche perché abbiamo stanziato nell'ultima variazione di bilanci i fondi per la demolizione e per la bonifica di tutta l'area perché è un progetto molto rilevante e questo progetto sarà parte sicuramente anche della nuova associazione che stasera portiamo in approvazione in Consiglio Comunale grazie grazie Assessore ci sono interventi da parte dei consiglieri? consigliere Pullè prego intervento principale intervento principale grazie presidente sì noi siamo particolarmente orgogliosi di questa pratica soprattutto perché la immaginiamo realizzata e realizzabile nell'area dell'ex matatoio è chiaro che non è solo quello il motivo ma è anche quello il motivo e ci vengono in mente le parole a volte anche un po' sarcastiche dell'opposizione quando dicevano al matatoio cosa farete il matatoio non sarà nulla voi non fate nulla per la musica per i giovani per i per quelli che hanno delle difficoltà e la risposta è stata lavorare in silenzio lavorare sotto traccia ma lavorare bene e riuscire ad ottenere un finanziamento molto importante di 5 milioni di euro per quello che era un progetto per noi fondamentale non tanto per lo sviluppo della città lo sviluppo turistico della città ma proprio per lo sviluppo sociale della città per essere vicini non solo all'economia della città ma anche a quella parte che non è economia ma che è civiltà società questo è quello che abbiamo fatto e che abbiamo pensato nell'ex matatoio non solo un contenitore vuoto ma un contenitore di idee e questo è oggi il primo tassello di quelle idee perché creare incontra significa come è stato fatto con Riccione Teatro creare un'associazione che possa permettere nel futuro un viaggio e che possa portare i giovani e chi ama la musica nel futuro in un viaggio che si potrà realizzare anche grazie a questa associazione e quindi non è nulla di particolare non è nulla di trascendentale ma è un ulteriore piccolo importante tassello che noi con molta gioia e molta gratitudine andiamo a mettere nella nostra città questo è forse l'ultimo tassello che noi come Consiglio Comunale mettiamo perché questo è il nostro ultimo Consiglio Comunale ma siamo veramente orgogliosi di poterlo fare non su un progetto turistico ma su un progetto culturale e sociale grazie grazie consigliere Pullè ci sono altri interventi consiglieri non essendoci altri interventi sindaco vuole replicare prego grazie presidente allora prima di fare il mio intervento su questa pratica voglio ringraziare tutti i consiglieri per il voto unanime sulla pratica precedente perché è stato assolutamente un bel vedere il fatto di aver abbracciato tutti insieme questo particolare intervento che per tanti anni appunto ha atteso una risposta e che per fortuna oggi finalmente l'ha ricevuta il voto unanime è sempre un bel riconoscimento da parte del consenso politico più importante della città relativamente a questa pratica al di là dei tecnicismi che sicuramente tutti avrete compreso anche io voglio sottolineare come ha già fatto il consigliere Pullet l'importanza di questo percorso un percorso che sembra insomma una poca cosa ma invece abbiamo lavorato per un anno intero un anno intero dove attraverso gli incontri con tutte le associazioni di volontariato e con tutte le realtà culturali e insomma del terzo settore presenti nella città abbiamo fatto momenti di confronto e anche di appunto ragionamento per poter andare ad individuare quella che era il mancante nel nostro territorio anche con un respiro un po' più ampio della semplice città di Riccione e grazie a questi incontri abbiamo appunto individuato una soluzione progettuale che porterà nell'ex mattatoio lo sviluppo di una realtà moltidisciplinare avremo lo sviluppo di un laboratorio all'interno della quale ci sarà anche una messa sul fronte di Viale Bergamo nell'ambito del quale andremo a sviluppare il progetto Riccione incontra il lavoro cioè cercheremo attraverso le aziende con le quali abbiamo già cominciato gli incontri di poter avere delle commesse lavoro vero per poter affrancare i nostri ragazzi speciali cioè coloro che hanno una piccola disabilità o una grande disabilità ma che sicuramente attraverso il lavoro come ciascuno di noi si sentiranno finalmente parte di una comunità e potranno anche ricevere uno stipendio all'interno dell'otto verrà invece realizzato un nuovo auditorium quindi una realtà dove non solo si potrà insegnare musica a tutti grazie anche qui all'aver scoperto attraverso questi incontri e questi confronti delle realtà che producono strumenti musicali per ogni necessità e per ogni mancanza quindi anche qui la musica che è legame che è affrancamento nell'ambito di una società e quindi oltre a questi diciamo laboratori o luoghi dove possiamo insegnare musica a tutti e dove possiamo permettere la registrazione anche di musica prodotta direttamente dai nostri ragazzi abbiamo anche un vero e proprio auditorium un auditorium che avrà la possibilità di accogliere tra dentro e fuori nella nuova piazza che si verrà a creare nella realtà di San Lorenzo circa 200 ragazzi quindi la voglia è quella di regalare a loro un luogo loro che devono gestirsi e nel quale poter suonare proprio per i loro coetani fondamentalmente nel lato invece più verso la scuola elementare abbiamo immaginato delle palestre appartamenti quindi una piccola realtà di appartamenti dove non è possibile abitarci in maniera definitiva ma dove si andrà a trasferire l'autonomia abitativa e quindi degli appartamenti dove con più unità e con un educatore presente i ragazzi avranno la possibilità appunto di acquisire quell'autonomia che tanto abbiamo sentito nelle parole della legge del dopo di noi quindi una ricchessa una gemma un grande gioiello nel cuore della nostra città là dove già con le realtà vicine abbiamo avuto confronti e momenti e dove per fortuna tutte le realtà hanno aperto le proprie braccia ed ad accogliere questo nuovo sviluppo anzi con quell'entusiasmo anche maggiore rispetto a quello che ci potevamo aspettare proprio in ragione del fatto che tutti l'associazione di San Lorenzo calcio piuttosto che la scuola piuttosto che la parrocchia nonché il buon vicinato si sono già resi disponibili per creare anche assieme a loro delle opportunità e delle occasioni affinché veramente questo accogliere i nostri giovani giovani tutti possano prestissimo andarsi a realizzare e questo prestissimo è veramente vicino perché con questo progetto abbiamo partecipato al primo bando del PNRR grazie anche al fatto che durante la pandemia questa amministrazione non è stata ferma ma ha riempito i cassetti di progetti proprio perché avevamo già colto quello che poteva essere il risveglio del paese dopo questo brutto momento quindi abbiamo partecipato immediatamente al primo bando e con grande sorprese e con grande piacere abbiamo ricevuto il finanziamento massimo 5 milioni di euro sapete che il PNRR ha dalla parte sua dei favori dei vantaggi e degli svantaggi noi leggiamo solo i vantaggi i soldi devono essere spesi subito e per noi questa è una grande gioia quindi già all'inizio del 2023 dovranno essere iniziati i lavori quindi a breve si procederà con l'avanzamento della progettualità nel livello esecutivo che è l'ultimo che ci manca per poi procedere agli appalti ciò significa che in tre anni si potrà già vedere sorgere questa nuova rigenerazione soprattutto perché gli immobili sono tra loro assolutamente autonomi ed indipendenti quindi potranno essere anche realizzati in momenti diversi e con i 5 milioni di euro potremo realizzare sia la stecca dei laboratori e del lavoro sia l'auditorium lasciando in un secondo momento quello che è invece la palestra ad appartamenti quello che i ricionesi vedranno subito invece sarà la veramente immediata demolizione dell'ex matatoio che finalmente anche qui in un quartiere dove per anni si è veramente detto di tutto ma fatto di niente si potrà finalmente cominciare un percorso che non solo vede la rigenerazione di quel partiere ma soprattutto vede come dicevo una nuova gemma un nuovo gioiello per tutta la nostra città grazie grazie signor sindaco a questo punto ci sono delle dichiarazioni di voto consiglieri consigliere andruzzoli prego due minuti grazie presidente no faccio subito la dichiarazione di voto il nostro voto non abbiamo nulla in contrario alla costituzione dell'associazione sarà di astensione insomma però visto che il sindaco ci ha tenuto nel suo intervento non a parlare dell'associazione ma ha speso molto tempo a parlare del progetto del mattatoio ecco vorrei ringraziare l'Europa osteggiata da molta parte diciamo delle forze diciamo di di cui fa parte insomma la maggioranza del sindaco ringraziamo per questo no ringrazio perché finalmente solamente con questo finanziamento vedremo qualcosa di fattivo perché in realtà in città in questi anni abbiamo visto di veramente poco 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 grazie grazie consigliere andruzzoli consiglieri un po' di silenzio cortesemente ci sono altre dichiarazioni di voto consiglieri consigliere ruggieri prego sì grazie presidente allora mi fa piacere innanzitutto che il sindaco abbia riconosciuto comunque l'obiettività della minoranza riguardo al progetto insomma di prima che è stato quindi deliberato all'unanimità perché effettivamente quando comunque così i progetti sono buoni è inutile insomma fare opposizione così gratuita e quindi mi sono sentita di votare personalmente favorevolmente per questo motivo anche perché l'edificio andrà a favore della parrocchia e penso che la parrocchia sarà sicuramente un ente che è in grado di tutelare il bene comune più di noi altri diciamo così e sicuramente sopperirà con quel progetto anche a delle carenze in tema di decoro urbano eccetera allora riguardo a questo invece punto io anticipo quello che sarà il mio voto e dell'astensione ritengo che anche questo progetto sia buono e quindi avrei votato favorevolmente però devo anche dire che per quanto riguarda la questione economica sono portata appunto all'astensione perché è vero che appunto sono stati stanziati grazie al PNNR questi 5 milioni di euro che effettivamente rappresentano il massimo ottenibile per progetti di questo tipo però in commissione mi sono anche informata e ho saputo che mancano comunque dei fondi per l'ultimazione di questo progetto e quindi sarà per una mia forma mentale ho delle difficoltà ad approvare un qualcosa senza sapere poi dove andrò a reperire le somme che mancano per ultimare quel tipo di progetto mi è stato detto che verosimilmente le somme aggiuntive che mancano verranno prese dagli oneri di urbanizzazione oppure da mutui o da contributi regionali europei o statali però diciamo che riguardo a questo ultimo punto diciamo i contributi regionali europei e statali rischiano sempre di essere comunque un'incognita quindi è per una questione meramente economica che su questa pratica io mi esprimo con l'astensione perché diversamente l'arte e la cultura penso che siano fondamentali per l'educazione di tutti e penso che siano anche fondamentali per creare una sorta diciamo così di unione anche con le persone che appunto hanno delle disabilità e che grazie a questo tipo di progetti effettivamente possono essere molto molto aiutate quindi intanto ringrazio per la proposta ma la mia la mia votazione sarà nel senso dell'astensione appunto grazie consigliere Ruggeri ci sono altre dichiarazioni di voto consiglieri non essendoci dichiarazioni di voto pongo in votazione la pratica prego consiglieri potete votare con 14 voti favorevoli e nessun contrario e 4 strenuti la pratica è stata votata favorevolmente ora anche essa consiglieri chiede l'immediata eseguibilità quindi di nuovo potete votare consiglieri col medesimo risultato 14 voti favorevoli e nessun contrario e 4 strenuti la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile ora non ci sono altri punti all'ordine del giorno come aveva stabilito la conferenza di capigruppo si lasciava del tempo ai consiglieri che volessero accomietarsi consigliere Maiolino prego concisa grazie presidente e buonasera a tutti questa sera sarà il nostro ultimo consiglio comunale della legislatura il mio ultimo intervento e pertanto desidero ringraziare personalmente e a nome del mio gruppo consigliare tutti i dirigenti i tecnici tutto il personale del nostro comune il segretario comunale il nostro sindaco il presidente del consiglio capo di gabinetto tutti gli assessori i colleghi di maggioranza per l'eccellente lavoro svolto in questi anni nonché i colleghi di minoranza per le occasioni di confronto in questi cinque anni di mandato è stato un onore guidare la nostra città e ringrazio ancora una volta a tutti i riccionesi per questa opportunità sono stati per me per il mio gruppo per tutti noi anni formativi di studio e di crescita per chi ci conosce sa che abbiamo sempre lavorato unicamente per il bene della città affiancati costantemente da dei grandi professionisti che con grande dedizione e spirito di abnegazione ci hanno permesso di conoscere la macchina amministrativa con tutti i suoi ingranaggi non sempre facile da comprendere per i non addetti ai lavori durante questo percorso personalmente mi sono più volte trovata ad affermare che forse un giorno da sindaco servirebbe a tutti i cittadini per scoprire come funziona davvero la macchina amministrativa comunale per capire i tempi i documenti che occorrono per progettare e realizzare opere ciclabili rotatorie il funzionamento dei servizi sociali e comprendere tutte le difficoltà che il sindaco incontra durante il suo mandato ancora di più quando occorre affrontare tutto questo in anni di pandemia ebbene conoscere la macchina amministrativa entrare negli uffici comunali nel consiglio comunale e vedere da vicino cosa occorre anche solo per progettare un marciapiede può contribuire a dare la giusta dimensione posso continuare a dare la giusta dimensione del lavoro che quotidianamente è stato fatto e viene fatto anche per le cose considerate più facili esprimere così giudizie e pareri più opportuni senza trascendere nel qualunquismo fine a se stesso e per nulla costruttivo in questi anni abbiamo fatto moltissimo e questa sera non mi basterebbero i pochi minuti a disposizione per poter elencare tutto ciò ed è per questo che a breve verrà distribuito a tutti i cittadini un libro principalmente fotografico che evidenzerà e comunicherà in maniera oggettiva visibile tutto quello che è stato fatto in questi anni nonostante appunto i due anni di pandemia e praticamente il paese ed il mondo fermo in questa occasione però desidero comunque evidenziare alcuni risultati importanti di questa amministrazione solo per citarne alcuni ricordo la rigenerazione urbana dei quartieri come Raibano dove prima del nostro arribo vi erano ancora delle strade bianche quartiere del centro studi di via ferraria e limitrofe con la riqualificazione completa dei servizi e di sottoservizi quartiere Spontricciolo viale varezzano manutenzione stradale di circa 250 strade nuove opere pubbliche come il lungomare Ghete e Shakespeare viale Tasso viale San Martino sottopasso viale Ceccarini e Spazio Tondelli nell'ambito del sociale partendo dalla modifica della denominazione da servizi sociali a servizio alla persone alla famiglia socialità di quartiere abbiamo sempre lavorato per stare vicino alle persone incentrando il nostro lavoro sulle relazioni con le persone sostenendole nei momenti di bisogno soprattutto in un periodo di pandemia con aiuti concreti ascoltando i loro bisogni e le loro richieste negli anni siamo riuscite ad unire tutti i buon vicinato lavorando insieme come una vera comunità organizzando feste come quelle dei nonni della famiglia realizzando il progetto Green Christmas con l'accensione degli alberi in tutti i quartieri grazie anche al lavoro di questa amministrazione degli uffici alla collaborazione fondamentale di tutta la rete dell'associazionismo abbiamo costruito sulle cenere dell'ex fabbrica Tacker l'Emporio Solidare e stiamo lavorando per far nascere così come è stato poco anzi citato l'ex mattatoio una struttura collaboratori lavoro e spazi all'aperto l'istituto musicale di Riccione e un grande auditorium un lavoro dove con la pratica e lo stare insieme si riducono i comportamenti potenzialmente a rischio dei giovani si danno risposte ai disabili attraverso l'aggregazione anche lavorativa sostenendo famiglie e ragazzi l'ex mattatoio diventerà un'eccellenza di Riccione un grande centro con un'attenzione particolare al sostegno e alle disabilità un progetto davvero innovativo in Romagna elaborato e progettato in tempo utile così come è stato ricordato per ottenere 5 milioni di eri dal finanziamento del PNR ricordo ancora l'importantissima riqualificazione delle scuole e palestre abbiamo lavorato moltissimo per promuovere progetti per tutte le scuole di Riccione aprendo loro tutti i progetti del museo della biblioteca e del progetto Riccione beni, ambienti e culturali serviva la conclusione cortesemente mantenendo gli impegni presi in campagna elettorale abbiamo abbassato le tasse togliendo l'addizionale IRPEF come comunico comune della provincia diminuito l'atari per le famiglie di imprese diminuito le tasse e del suolo pubblico per quanto riguarda il turismo abbiamo fortemente e volutamente investito per il rilancio turisto creando quello che oggi è un vero e proprio prodotto d'inverno quello del Natale e Capodanno che con numeri importanti e strutture tutte aperte ha visto creare e far rinascere la nostra città anche d'inverno nonché il progetto delle Albe in controluce con tutti i concerti in spiaggia e il sorgere del sole che di anno in anno ha avuto sempre più riscontro abbiamo investito in grandi mostre internazionali come da ultimo quella di McCarrie con la logica di lavorare per creare prima la domanda sempre più numerosa in questi anni e contestualmente riqualificare i suoi contenuti come nel caso della Villa Mussolini ed il suo giardino ed l'importante è quella edificazione dello spazio Tondelli che a breve sarà un fiore all'equello per la nostra città cultura e turismo che oggi in città registrano numeri importantissimi di cui siamo molto orgogliosi di questo voglio nuovamente ringraziare tutto il settore abbiamo concludo cerco di essere sì no perché siamo un po' fuori consigliere abbiamo fatto troppe cose due minuti sono sette se magari il servizio il servizio del bene comune non può realizzarsi con un'avventura solitaria ed in questa consigliatura abbiamo ed ho trovato una vera squadra persone che stimo con le quali abbiamo piacevolmente condiviso questo percorso e ci auguriamo di poter proseguire nella prossima legislatura con il nostro candidato sindaco Stefano Caldari che per noi rappresenta oggi la continuità di questa squadra la politica soprattutto quello che ci riguarda deve essere orientata al miglioramento delle condizioni morali e materiali della nostra comunità e deve sempre essere grazie consigliere Ragni due minuti grazie presidente buonasera a tutti questo intervento personale vuole essere una sorta di ingraziamento collettivo grazie ai ricionesi che nel 2017 mi hanno votato e mi hanno fatto vivere queste esperienze in età matura grazie agli amici della Lega che mi hanno sostenuto nonostante i miei seri problemi familiari grazie ai colleghi consiglieri di maggioranza abbiamo fatto squadra e soprattutto abbiamo mantenuto gli impegni presi in campagna elettorale grazie a tutti gli assessori a Roberto Cesarini a Gabriele Galassi che hanno lavorato assiduamente per il bene della nostra città grazie ai dirigenti dei vari settori e degli uffici preposti che hanno supportato tutte le nostre scelte lavorando fianco a fianco con gli assessori ed i tecnici grazie ai colleghi di minoranza con i quali ho esplorato un buon rapporto sempre leale corretto e rispettoso dell'idea altrui ed in ultimo ma non per ultimo un immenso grazie al nostro sindaco grazie Renato hai dato la svolta alla nostra città hai combattuto contro tutto e tutti dimostrando di avere un carattere indomito ed una volontà incorollabile hai veramente senza sé e senza ma lavorato esclusivamente per il bene di Riccione ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti sono certo che Stefano Caldari proseguirà su questa strada è stata un'esperienza faticosa ma affascinante che mi ha fatto sicuramente crescere grazie di nuovo e buona vita a tutti grazie consigliere Ragni consigliere Bedina prego due minuti grazie presidente sono ormai letteralmente passati cinque anni da quando i riccionesi ci hanno dato la loro fiducia premiando il nostro programma elettorale e facendoci vincere per la seconda volta consecutiva alle elezioni comunali del 2017 in questa legislatura che volge il mai al termine come Lega ci siamo sempre prodigati nel mantenere questa fiamma di fiducia viva e splendente coltivando costantemente il rapporto con i nostri concittadini e cercando di diminuire sempre più il gap che negli anni si è creato tra politica e le persone in cinque anni di attività amministrativa infatti non siamo mai venuti meno al rapporto diretto con i concittadini con i nostri banchetti siamo sempre stati in mezzo alla gente facendo identificare il mero tavolino come ulteriore punto di presidio e di ascolto per i ricionesi che volevano rapportarsi con i loro rappresentanti politici magari testandone la validità e la serietà la nostra porta è sempre stata aperta a chiunque bussasse indipendentemente dalla fede o colore politico professata perché a differenza di quello che qualcun altro scrive o erroneamente vuol continuare a far intendere questa amministrazione ha sempre ascoltato e parlato con tutti in quanto non esistono rizzonesi di serie A o di serie B come Lega abbiamo sempre sposato la politica del fare lasciando le parole agli altri alle frasi prestampate abbiamo sempre risposto con i fatti e questo modus operandi trova pienezza anche all'interno dell'operato istituzionale che con grande orgoglio e senso di responsabilità rappresenteremo fino all'ultimo giorno concessoci il nostro partito è sempre stato presente nelle scelte e nelle decisioni volte al benessere dei nostri concittadini sia in giunta che in maggioranza siamo stati dei veri e leali alleati dei quali nessuno ha mai potuto dubitare abbiamo dato fiducia e dimostrato più volte di poterne avere in cambio in una parola affidabili abbiamo portato a compimento ciò che ci eravamo prefissati all'inizio e che avevamo scritto nel programma elettorale abbiamo lavorato costantemente con gli uffici e ci siamo rapportati sempre con gli assessori producendo un effetto sinergico molto importante per rispondere alle istanze provenienti dalla città a talto apposito ci teniamo a ringraziare il personale di tutti gli uffici dagli impiegati ai dirigenti per il loro lavoro la loro competenza e la cortesia con la quale ci hanno accolto ogni qual volta abbiamo bussato alla loro porta per avere delucidazioni in merito alle pratiche 5 anni di lavoro 5 anni di soddisfazione di vittorie potevamo fare di più sì potevamo farlo meglio può darsi ma ai più intransigenti vorrei ricordare che la situazione pandemica di due anni fa in un'Italia bloccata da nord a sud e nel mezzo dell'incertezza più assoluta il comune ha continuato a lavorare non solo per i progetti come prima diceva il sindaco ma soprattutto prodigandosi nel portare aiuto in ogni punto possibile della città così da non lasciare nessuno indietro è stata una brutta gatta da pelare che non auguriamo a nessun altro ma questa amministrazione c'è sempre stata sempre ed è veramente motivo di orgoglio per noi averne fatto parte concludo a titolo personale ringraziando innanzitutto il presidente del consiglio comunale per l'esercizio svolto in tutti questi anni grazie alla sua opera siamo riusciti ad avere un consiglio comunale tranquillo pacato votato alla discussione quindi grazie un ringraziamento ovviamente al sindaco agli assessori agli amici della maggioranza e anche ai due rappresentanti rimasti delle minoranze grazie veramente perché tutti quanti siete riusciti a darmi un quid in più per una crescita personale non indifferente grazie grazie consigliere Bedina consigliere Testa non spingere sta buona attaccano loro mamma mia buonasera a tutti non ho intenzione di fare un intervento politico non almeno in questo momento conclusivo della mia esperienza e del consiglio comunale ci tengo a fare un ringraziamento davvero sincero e di cuore a tutta l'amministrazione agli assessori al sindaco ai dirigenti e a tutti i funzionari a tutti i miei colleghi che comunque sono amici di maggioranza e anche alla minoranza perché comunque quando il confronto politico è costruttivo è sempre un'esperienza di cui è necessario far tesoro a titolo personale ringrazio per la bellissima esperienza e ringrazio te Renata perché sei stata in tanti momenti la mia bussola mi hai supportato e sopportato anche in momenti non troppo difficili di questo percorso a nome invece di Forza Italia e penso di parlare anche per il mio collega Daniele Martini nonostante sia entrato da poco ringraziamo comunque il centro d'estero unito e l'amministrazione per questa grande unità che comunque ci contraddistingue dobbiamo dirlo e per essere prima di tutto una grande famiglia grazie 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 consigliere c'è qualche altro consigliere Poulet due minuti no presidente proprio no tanto se le disobbedisco oggi è l'ultima volta quindi non mi può più riprendere ovviamente non sarà un intervento politico ne ho fatti grazie a tutta questa maggioranza tanti in questi cinque anni è un orgoglio per me aver avuto questo privilegio e quindi oggi lo dedico un po' più a un percorso esperienziale e a un ringraziamento mio personale che poi sarà rivolto anche a voi rispetto quindi a un discorso un po' più ampio siamo arrivati ai titoli di coda a me sembra quasi ieri quasi ieri il primo consiglio comunale con tutti i presenti oggi sono solo due l'hanno già detto ma non entriamo in polemica e sì c'è stata la pandemia ci sono stati tanti consigli online ci sono stati periodi complicati però il bello di questa squadra di tutta questa squadra non solo noi riccionesi ma tutte le persone che hanno fatto parte del consiglio comunale e gli assessori è stato un percorso bello umanamente bello e tanto formativo almeno per me perché si inizia un'esperienza in consiglio comunale io non ero mai stato in consiglio comunale molti di voi invece avevano già avuto un'esperienza e quindi non sapevi a cosa saresti andato incontro e poi lo hai iniziato a capire passo dopo passo giorno dopo giorno e hai iniziato a capire che le persone che avevi di fianco in realtà non erano solo persone che erano come te ha avuto il privilegio di essere votate dai riccionesi per fare l'interesse dei riccionesi togliete il campanello ma ma ho perso il filo dicevo che non è solo per fare l'interesse dei riccionesi ma è anche per conoscersi e crescere insieme il lato umano io ve l'ho sempre detto a tutti è per me il lato fondamentale perché se ci si rapporta umanamente con criterio con dolcezza con le altre persone si riescono ad ottenere tante cose ed è per quello che che cosa mi ha spinto l'altra volta a candidarmi ve lo dico in maniera molto chiara Renata lo sa dal primo giorno io non ho potuto sopportare quel momento molto brutto politico di quelle firme dal notaio l'opposizione che l'abbia fatto tecnicamente ci può stare che l'abbiano fatto persone della maggioranza io non l'ho digerita soprattutto non ho digerito che l'abbia fatto una persona che ha preso il mio voto e che le ha votato la sfiducia perché significa aver usurpato un mio voto io le prime cose che ho detto in campagna elettorale scorsa e quale sono state durante interviste durante dei video ho detto io una cosa sola vi prometto non so se sarò capace di fare se vero eletto il consigliere comunale e come lo farò una cosa sola ve lo prometto coerenza fedeltà e rispetto perché se voi mi votate per Renate in questa lista io starò qui per Renate in questa lista e se non mi troverò d'accordo vado a casa non vado a votare altre cose o vado a fare altri giri e quindi quel giorno io ho detto io ci provo perché voglio che il mio voto non venga più tradito da nessuno io qui ho tutti i consiglieri di maggioranza che questo percorso l'hanno fatto abbiamo avuto delle difficoltà quasi mai ma anche quando le abbiamo avute ci siamo stretti tra di noi abbiamo capito qual era il nostro obiettivo e siamo andati avanti coerentemente abbiamo portato coerenza in questo consiglio comunale e non c'è stata una polemica e quindi ringrazio voi perché non ci sono state polemiche abbiamo continuato una strada insieme e questa è stata secondo me una delle grandi cose che abbiamo fatto non vado ancora tanto oltre ma ancora due o tre parole sì innanzitutto i ringraziamenti personali vanno ai capigruppo con cui ho vissuto un po' più il percorso di questi anni quindi Andrea Pier Giorgio che non c'è Greta che è subentrata ovviamente Sara tutta l'amministrazione quindi tutti gli assessori che ci hanno sempre aiutato il presidente del consiglio comunale Gabriele e il sindaco Renata Tosi chiudo sto fermandomi su un ultimo aspetto però lo devo fare anche questo è molto personale abbiamo detto che abbiamo collaborato tutti quanti insieme siamo cresciuti insieme professionalmente politicamente e questo è stato bello ecco io quello che vi posso dire è che la politica a volte può far trovare altro non è solo politica e non è solo cuore è anche aver trovato degli amici io il compito che mi è stato dato all'inizio del mandato quello di capogruppo visto anche cos'era successo nella precedente consigliatura era quello di dire teniamo un gruppo unito e io non ho avuto una difficoltà col mio gruppo mi limito adesso al mio gruppo Naide Marzia Gabriele era nato ovviamente perché è il sindaco è nato qualcosa di più di un rapporto politico è nato un rapporto di amicizia vera che ci ha legato che ci ha visto insieme serate momenti momenti di gioia momenti di risate infinite momenti di preoccupazioni momenti tanti momenti che abbiamo vissuto insieme tutti insieme e quindi io chiudo con questo ringrazio voi perché siete stati non una spalla ma quattro amici veri e sinceri abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme vi vorrò sempre bene e vi terò sempre nel cuore grazie grazie consigliere Pullet ci sono altri interventi? sei stato registrato? sei stato registrato? non essendoci altri interventi prima di passare la parola al sindaco ah no scusa non l'avevo visto consigliere no no ma mi perdoni prego consigliere grazie presidente io volevo ringraziare innanzitutto i cittadini che mi hanno dato la possibilità di stare stare qua in questi cinque anni a rappresentare insieme a tutti voi un'istituzione e voglio ringraziare l'istituzione comune di Riccione il consiglio comunale l'amministrazione perché penso che le istituzioni siano da preservare e sono le fondamenta del nostro vivere civile e del nostro essere una comunità che al di là delle differenti visioni politiche e dei differenti punti di vista comunque rappresentiamo una comunità che deve essere comunque sempre unita di fronte alle sfide del presente e del futuro sicuramente ecco la mia attività per tutto l'impegno che ci ho messo sarà sicuramente stata imperfetta ma ho sempre cercato di capire anche il punto di vista dell'altra parte politica perché di questo sono sempre stato sicuro ognuno di noi ha sempre sicuramente lavorato nell'interesse del bene comune di questa città anche quando ci siamo confrontati asperamente sui differenti punti di vista e sulle differenti anche strategie che avremmo voluto mettere in campo chiaramente questo è il bello della democrazia a un certo punto a qualcuno viene consegnato l'onore e l'onere di governare è giusto che lo faccia perché è una responsabilità che gli viene consegnata e alla minoranza viene consegnato invece l'onore e l'onere di controllare l'operato dell'altra parte ecco quindi ringrazio tutti per la dialettica che c'è stata in questo consesso e ancora una volta ringrazio i cittadini tutti che ci hanno permesso di rappresentare protempore questa amministrazione ecco il mio augurio è che tanti altri cittadini possano fare questa esperienza perché penso che sia arricchente per il proprio bagaglio personale e umano e che aiuti a crescere nel rispetto delle altre posizioni e nel vivere civile grazie grazie consigliere Andruccioli consigliere Ruggeri prego allora dunque io non ho preparato nessuno scritto nessun proclamo solitamente mi scrivo tutto perché abbraccio non sono molto sicura però in realtà penso che per i saluti finali non ci fosse poi in realtà bisogno per me di scrivere niente perché contavo e conto di parlare insomma di pancia o col cuore insomma secondo di quello che voi preferite associare alla sensibilità di una persona allora è stata un'esperienza breve per me perché sono in questo consiglio comunale da soli 11 mesi però devo dire che è stata estremamente formativa sono stati 11 mesi piuttosto concentrati che mi hanno fatto appunto imparare tanto e diciamo che sono onorata di aver potuto ricoprire questo ruolo e di aver potuto riportare il Movimento 5 Stelle in consiglio comunale hanno fatto notare alcuni consiglieri di maggioranza che eravamo rimasti in due qui nell'opposizione ed effettivamente penso che questo giustamente sia stato riconosciuto ho dei parenti acquisiti che sono dei pescatori e mi insegnano che la barca non va abbandonata fino alla fine ed è questo un po' quello che ho voluto fare io prendendomi l'incarico appunto di di essere il consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle e quindi di minoranza tra l'altro monogruppo con tutto quello che questo comporta e vorrei ringraziare prima di tutti quanti chiaramente anche io gli elettori che nel 2017 mi hanno comunque dato fiducia vorrei ringraziare quelli del mio gruppo politico perché appunto la mia nomina è stata improvvisa è stata inaspettata e quindi ringrazio quelli del mio gruppo che hanno deciso di sostenermi e mi hanno comunque voluto qui a ricoprire questo seggio ringrazio chiaramente anche tutti i partecipanti insomma e i facenti parte di questo consiglio comunale perché non si apprende solo da coloro che ci assecondano nelle scelte ma si apprende anche e forse molto di più da quelli che ce le ostacolano che ce le contestano e che si confrontano con noi chiaramente in maniera costruttiva e le critiche costruttive sono sempre ben accette il confronto il dibattito è sempre ben accetto e il movimento insegna che non ci sono delle bandiere politiche che devono in qualche modo ostacolare quelli che sono degli ideali la realizzazione di alcuni ideali la realizzazione di progetti buoni come in alcuni casi appunto ci sono stati e ringrazio anche chi di voi non faccio nomi ma è stato estremamente corretto ascoltato gli interventi senza vociferare nel massimo rispetto di quello che è l'operato mio ma anche di quello che è stato l'operato insomma di voi altri e ringrazio appunto i colleghi di minoranza anche per avermi in qualche modo aiutato inizialmente a prendere confidenza con questo mezzo che è il consiglio comunale anche da un punto di vista tecnico e per questo ringrazio anche appunto gli addetti dei vari uffici comunali che mi hanno insomma seguito dall'insediamento fino ad oggi penso di avere ringraziato tutti quanti senza scadere in sentimentalismi sono figlia di un riccionese sono molto fiera di questo oggi non può essere qui fra voi ad assistere insomma a questo mio saluto ma so che sarebbe comunque fiero di quello che è stato il mio lavoro che ho cercato di portare avanti con con decoro come dicevo nel mio discorso di insediamento e soprattutto con con coscienza e con umiltà e ringrazio grazie consigliere Ruggeri ci sono altri interventi consiglieri prima allora di lasciare la parola al sindaco per le conclusioni finali volevo dire due parole visto che in cinque anni non le ho mai dette però volevo un po' ringraziarvi quando cinque anni fa mi è stata proposta questa carica la immaginavo un attimino più semplice devo essere sincero vuoi due anni di pandemia con gestione di consigli comunali online che era una follia allucinante da gestire vuoi un consiglio comunale vivace vivo abbastanza sempre sui temi un po' molto attento molto quasi aggressivo ma nel senso buono non è un'offesa per nessuno consiglieri quindi non sono stati cinque anni facili è stata un'esperienza molto interessante molto difficile però è stata un'esperienza bella la la guardo con gioia e con e con piacere vi ringrazio a tutti ho cercato sempre di essere sopra le parti senza mai mettermi in mezzo alle discussioni anche se io realmente faccio parte di un gruppo politico faccio parte di una lista civica e quindi io ho cercato comunque di non essere verimente nelle decisioni ma sempre sempre sopra le parti per poter dare la possibilità al consiglio comunale di rispettare le regole dello stesso consiglio poi che le regole del consiglio comunale siano un po' datate che debbano essere riviste è un compito che lasciamo alla prossima amministrazione noi in questa amministrazione abbiamo fatto tanto abbiamo visto tante cose e abbiamo lavorato molto sul consiglio comunale ne sono felice e soddisfatto e vi ringrazio a tutti voi detto questo lascio le parole al sindaco per le conclusioni finali sì anche io credo che siano volati questi cinque anni al di là del fatto che come sapete il consiglio si scioglie questa sera ma la giunta resta logicamente in carica fino a pochi giorni prima delle elezioni per poi lasciare tutti i poteri nuovamente nelle mani del sindaco che attenderà il prossimo il prossimo sindaco io voglio invece ringraziare anzi che l'amministrazione che comunque ringrazierò più avanti perché ancora con me dovrà lavorare e lavorare molto io voglio ringraziare prima di tutto le vostre famiglie e tutti coloro che comunque avendo voi dedicato del tempo alla comunità e alla città hanno comunque sofferto della vostra mancanza lo dico per tutti i consiglieri ma in modo particolare per i consiglieri di maggioranza perché il lavoro è stato tantissimo io insomma ci siamo un po' presi per mano e abbiamo fatto una grande corsa avevamo voglia di affrancarci su una legislatura che era finita in maniera veramente strana e quindi il fatto che questa sera possiamo anche fare i saluti del consiglio comunale è per noi la prima volta nonostante si sia in secondo mandato perché l'altra volta da un giorno da un minuto all'altro siamo andati effettivamente a casa mi viene da sorridere perché per fortuna la città ha capito ci ha premiato e ci ha nuovamente riconsegnato l'onore ma soprattutto la gioia di poter essere qui e cercare di dare belle risposte alla nostra comunità comunque dicevo ci siamo un po' presi per mano e abbiamo fatto una lunga corsa una corsa che ha portato un'intensità di lavoro credo veramente straordinaria noi ci siamo visti tutte le settimane al di là della programmazione o meno del consiglio comunale abbiamo approfondito veramente le virgole abbiamo approfondito e cercato di dare tutti i contributi possibili ed immaginabili su tutti i progetti su tutte le idee su tutte le cose che volevamo portare a compimento e regalarci in questa legislatura e a questa nostra amatissima Riccione le cose sono tantissime andremo sicuramente a raccontarle in campagna elettorale che si apre già dai prossimi giorni ma soprattutto l'esperienza di questa bella vita pubblica che io avevo voglia che voi potevate vivere intensamente io avevo vissuto il consiglio comunale in maniera molto più difficile perché in minoranza è dura lo dico perché logicamente nessuno ti accompagna devi assolutamente guardare tutto leggere tutto capire tutto da sola noi io dico noi perché io e Roberto Cesarini anche se ci siamo alternati in consiglio comunale nell'opposizione abbiamo sempre vissuto questa nostra esperienza insieme noi abbiamo veramente letto anche le virgole di questa amministrazione e quindi avevo veramente piacere che i consiglieri di maggioranza che si apprestavano a vivere questa legislatura potessero godere con un pochino più di facilità dell'intensità però del far parte di un ente di un'istituzione assolutamente vengo con lei consigliere Andruccio un'istituzione importantissima che dobbiamo tutti insieme riuscire a trasferire sempre nel migliore dei modi ma è un'istituzione che va vissuta appunto con quella umiltà del servizio con il quale noi veramente ci siamo apprestati tutti i consiglieri ad eccezione fatta per il consigliere Rosati sono consiglieri nuovi nessuno di voi aveva fatto una esperienza precedentemente e vi siete affidati io per questo vi ringrazio perché è stato veramente bello poterci come dicevo prendere per mano in modo tale che nessuno rimanesse indietro e in modo tale che insieme si poteva veramente si poteva costruire qualcosa credo che le cose fatte siano state veramente tanto e non finiranno qui perché come dicevo con i compagni di giunta che per il momento hanno solo pianto ascoltando i consiglieri di maggioranza nei saluti ma continueremo a regalarci delle occasioni delle opportunità perché Riccione merita veramente io lo dico tutte le volte i consiglieri lo hanno ricordato fare il sindaco fare il consigliere dovrebbe essere un obbligo perché cambia completamente la visione che hai della tua città cambia completamente la visione che tu hai della cosa pubblica sia nella difficoltà ma soprattutto nel rispetto e spero che questa campagna elettorale che tutti ci apprestiamo a giocare sia una compagna elettorale onesta sia una compagna elettorale leale dove ci sia una sana contrapposizione di verità ecco io vi chiedo solo grande verità perché le idee si possono esprimere anche nel massimo della contrapposizione e della diversità ma solo esclusivamente la verità ci può salvare grazie veramente a tutti grazie signor sindaco non essendoci chiaramente altri interventi dichiaro chiuso il consiglio comunale per questa legislatura alle 21.58 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.